Sono ormai sei anni che facciamo questa festa con i bambini delle elementari e della scuola materna e tre anni che veniamo qui al centro di uno disabili di Piario per coinvolgere anche i ragazzi disabili sul nostro territorio. I bambini di Piario, oltre a fare questa festa dell'albero con questi ragazzi, fanno anche delle attività scolastiche. In cosa consiste la festa dell'albero? La festa dell'albero consiste nel piantare, almeno qui al CDD, che consiste nel piantare delle piante di frutta per poi vederne i frutti in autunno. Quest'anno piantiamo anche, come l'anno scorso, le patate, che poi verranno raccolte a settembre con la festa della patatina fritta e verranno giù a mangiare anche i ragazzi. Anche l'era del Novecento di Rovetta è coinvolta oggi alla festa dell'albero a Piario. Voi naturalmente non piantate alberi, ma patate, giusto? Patate, patate grano turco, con le tradizioni di una volta, quando eravamo bambini. E questo è il periodo migliore per piantare le patate? È giusto adesso, è giusto. Io le ho già seminate, ho finito ieri. Ne ho seminate 16 pertiche, non è poco. L'anno scorso ne avevo vendute ormai 200 quintali. Ho la macchina, ho comprato la macchina di raccogliere tre anni fa, la macchina di fare le strisce per seminarle, e sono anch'io da solo. Carla Balduzzi è responsabile del CDD di Piario. Come è coinvolto il CDD in questa iniziativa? Siamo lieti di ospitare per il terzo anno questi ragazzi delle scuole di Piario, perché per noi è comunque un momento importante, nel senso che apriamo il nostro centro, facciamo vedere i nostri ragazzi, e abbiamo la possibilità di lavorare con loro. Infatti con questo plesso dell'Istituto Comprensivo di Clusone abbiamo molte iniziative, questa di oggi che è la festa dell'albero, in cui pianteremo anche le patate, ma abbiamo anche un'iniziativa in cui i bambini vengono durante l'orario scolastico da noi per lavorare su alcuni materiali. In particolare negli ultimi anni ci siamo orientati rispetto al riciclo dei materiali, quali plastica, carta, lavori con il legno. Per cui è una collaborazione che ormai c'è da qualche anno e devo dire che c'è stata sempre una grossa disponibilità da parte degli insegnanti che ringrazio e di sensibilità rispetto ai nostri ragazzi disabili. Oggi poi devo fare anche un ringraziamento particolare anche al comune di Piario che organizza comunque questa iniziativa della festa dell'albero e anche al signor Pierino che è lui che organizza comunque tutto. Nicoletta Calzaferri, insegnante della scuola primaria di Piario, come vi siete preparati per questa iniziativa? Dunque anche quest'anno come gli anni precedenti tutti i bambini della scuola primaria hanno eseguito dei lavori in classe coordinati da tutte le insegnanti. I bambini piccoli hanno preparato la frutta che vedete hanno in mano loro i bambini e gli altri alunni hanno preparato dei canti e hanno preparato anche delle filastrocche a tema quindi sulle piante che poi adesso andremo a piantumare. Come tutti gli anni siamo presenti a questa iniziativa che è molto importante e praticamente è un passo di collaborazione ancora con il centro, con il CDD e i loro ospiti. Per fare un tavolo ci vuole legno Per fare legno ci vuole l'albero Per fare l'albero ci vuole il sede Per fare il sede ci vuole tutto Per fare il sede ci vuole il fiole Ci vuole il fiole Ci vuole il fiole Per fare il tavolo ci vuole il fiole